Il porto di Gioia Tauro perde il primato della movimentazione dei container in Italia e chiude il 2017 con perdite che si aggirano intorno all'11% rispetto allo scorso anno. Si torna indietro di tanti anni e si ripresenta il rischio se anche il 2018 continuerà su questo trend di nuovi licenziamenti, un dato che preoccupa molti operatori. Le ragioni della debacle si nascondono dietro il conflitto sempre crescente tra i due soci della MedCenter Container Terminal, il gruppo Conship Italia e la MSC, oggi unico cliente di Gioia Tauro. Quest'ultima di recente ha tentato di giustificare il calo di volumi, scesi in modo inesorabile nel secondo semestre del 2017, scaricando le responsabilità sul partner Conship Italia e accusandolo di ritardare gli investimenti annunciati da tempo nell'ammodernamento del parco infrastrutture e dei mezzi di movimentazione nel terminal di Gioia Tauro. Tanti gli interrogativi che ancora restano insoluti per lo scalo gioiese, a partire dall'autorità di sistema che dovrebbe inglobare i porti siciliani di Messina e Milazzo e Vibo Valencia. Nata sulla carta, la nuova authority, con un suo presidente, non decolla. A presiederla virtualmente il professor Francesco Russo, catanese, docente all'Università Mediterranea di Reggio Calabria e assessore regionale nella giunta Oliverio. In attesa che le nuove elezioni politiche e un nuovo governo diano nuovo impulso portando novità sulla vicenda, al momento la guida dell'autorità resta al vecchio commissario Andrea Agostinelli. Bisogna fare in fretta prima che sia troppo tardi. I segnali negativi cominciano a farsi evidenti.